Ancora il fratello di John il fratello di John di primo sensore di movimento Vabbè incenso mentre il fratello è qua comunque la nuvoletta è qua e fai assistere al membro e quindi forse un paio le possiamo fare Allora nevica ragazzi che bello Allora facciamo anche l'albero di Natale? Comunque il fantasma sta qui raga Andiamo vai No ma potevo prendere il dots però abbiate pazienza aspetta un attimo Ma cosa fa? Le foto? Alla neve Eh tanto sono infinite Così le mettiamo in ufficio poi Buonasera 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 Ecco qui già c'è la porta Ma qua c'è la nuvoletta veramente però Chissà se è in sala Vediamo che dice le MF Qui c'è la nuvoletta Sì anche qui Ecco ecco ragazzi ecco Subito? Sì Io sto respirando nuvolette Dice qua Eh sì Io l'ho messa qui la telecamera Sì 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 Ma c'è nuvolette ci sono nuvolette dappertutto Sta scendendo la temperatura vertiginosamente ho la nuvoletta davanti a me Questo se è mutato Era il mimo Ah di nuovo Ah perché prima Avete acceso Avete acceso il conto a chilometri? No No Mi fai tutto io in questa casa Qua di solito esce sempre la tavola a lui C'è la nuvoletta però c'è anche qua No ma c'è il carry on Dov'è? All'ingresso Io ho già fatto la foto Ok E ora prende l'altra roba Scende la temperatura che è una cosa spettacolare Però risale Risale Niente Scende e sale Sale e scende Allora io proverai a mettere qua Giusto per E poi lo spostiamo Andiamo via? Yes Andiamo proprio con il furgone Prendiamo e andiamo Ma il libro è solo uno Ah Eh Sì Ne abbiamo preso solo uno Volete prendere l'altro? Ma io prenderei il sale no? Ma non è questa la mia telecamera Questa è la mia Oh Ma chi è acceso la luce? Sì lo chiede anche Lo chiede pure Io no Ma io non lo so Quando usciamo bisogna spegnere le luci Ragazzi Guardate il fantasma ci ha seguito fino a qua Io lo dico Non è esattamente in sala il fantasma Vabbè vedremo Allora Che cosa avete preso? Cosa devo prendere? Io in sale L'altra Io pure Prendo il sensore di movimento Allora Io Anche se sinceramente non so dove metterlo Però Ma che dobbiamo fare come obiettivi? Il sensore Ah Sensore Vincenzo Fai assistere al membro Ok Facciamo assistere a dev Ma come siamo messi con la tele? Sì Con la tele di igienica Facciamo assistere a dev Eh beh Facciamo assistere a dev Assiste lui Siamo a posto Ho bisogno di assistenza Vita Intanto li metto qua E poi vediamo Dove cavolo sarà Sto fantasma È qua Avete trovato l'osso? È qua È qua È qua Dov'è che non lo vedo? Dai volevo fare una foto Si è manifestato qui Non so bene Insomma In che maniera Dove? Dove? Però abbiamo assistito all'evento Qua Eh ma dove però? Siamo anche due membri Quindi va bene Eh sì Direi che lì va bene Qualcuno ha gli sparaflescetti? No No Perché? Ah allora Stia attento dev Secondo me Io sono sempre attento Ecco vede Il fantasma le ha risposto Ma dove hai messo Susana? In Cologna Ti ho aperto 8 Oh eccolo Di nuovo Madonna Ma che cazzo È una rice Cinque Regà Cinque Questo Questo si è fissato Con la cucina Cinque Cinque Ma non cammina sul sale Qua Qua Sta qua ragazzi Sì sì Eccolo È passato nel dots Seconda prova Dove? Dove? Ma qual è la prima? Ma come? La prima è l'M35 Ah ok Non lo so più Ma lei è sicura di averlo visto nel dots? Sì sì l'ho visto Chiaramente Cinque C'è questa temperatura che sale e scende Sta lì in prossimità Dello zero Se non passa sul sale Può essere il breath Eh guarda Sta sul divano È passato qua Il fantasma È passato qua È passato qua Len guarda Sta qua Non è passato È vero Eccolo Lo vedi Lo vedi L'hai visto? No No È ripassato su Andiamo 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 Venite venite Uscite uscite Aiuto aiuto Vedi 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 Allora 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 Potrebbe essere il breath Perché è passato sul sale E non assalato Non assalato Terribile Mangia insipido Terribile Eh sì Ma la porta era socchiusa così? L'ha socchiusa lui Ma che ha tirato Ha tirato la roba Allora Se noi ci impastichiamo E rientriamo Possiamo guardare Il sale Se sale sul sale Minoretta che prove vuole? Eh due le abbiamo E manca La spirit box La prendo io Ok Ok Vediamo Se volete Aspettate un attimo però Allora Il libro spiritico Non può essere Allora portiamo La temperatura Che c'è già E che sta già dentro Ok Le luci La luce UV La riporto Dev porta la Spirit E il resto Tanto lo possiamo vedere Solo attraverso La telecamera Vediamo Ok Damos Dai Mi sono impasticcata io Non mi ricordo Sì 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 Siamo tutti alti Aspetta che butto la fotocamera Chi ce l'ha la Spara flash Ce l'ho io Ce l'ho io Allora Prendiamo questo E vediamo Innanzitutto Vedi che non è passato Sul sale È il Brett Regà È il Brett Dove sei Non passa Sei qui Rispondi Dove è il termos È qua Qua ce l'ho io Vuoi Ok ok Perfetto No 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 Se ce l'hai due Controlla Controlla Sei qui Sei qui No ma la temperatura è alta E siccome abbiamo messo il sale Si è Eh ma Però Comunque dovrebbe essere Sei qui Il libro L'abbiamo messo Uuuh T'ha risposto Il Brett Il Brett Porca droda Porca droda Che ha detto Boh proprio Eh sì Non è bellissima La voce Nella spirituola Dai Figata Pazzesca Allora Brett E' partitona Wow Spirituola Fox Dai Grande E oramai siamo dei veri professional Eh sì eh Mamma mia Però un obiettivo Quando sei manifestato si è incazzato perché abbiamo messo il sale Capito Eh sì Peccato che non l'ho visto io non gli ho potuto fare la foto Vabbè dai Davo se io sono soddisfatta così Va bene Per voi Sì sì Per festeggiare mi faccio un cicchetto di pillole Vada Vada No non mi fa fare più Ah 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 E che mica so a me eh Ma lo fa neanche lanciare No manca a me Solo io Mi fa lanciare tutto Oh Vabbè Vabbè da un ciao che non usciva il Vabbè Mi ha messo da parte un sacco di soldi stasera Mamma mia Tanta roba Siete Dai Mi spiace per la foto Per poco non arrivo al livello 29 Uh Io ho sbloccato il nuovo livello e mi hanno dato 550 dollaroni Bene Ma perché hai sbloccato il nuovo livello? Sì Ah quindi Prossimo livello Perché quando A volte ti danno solo i soldi Capito?